La passione di Gesù Cristo, di padre Gaetano da Bergamo, 13 dicembre, ultime parole di Gesù crocifisso, punto secondo. Si è adempiuto in ogni piccolo particolare tutto ciò che era stato predetto dai profeti e da Gesù stesso. Ora manca solo che si avveri l'ultima profezia, il giudizio finale, ed anche questa si compirà infallibilmente. Allora verrà in tutta la sua grandezza di giudice quest'uomo Dio, crocifisso da Giudei, che ripeterà un'ultima volta, è finito il mondo ed è finito il tempo sia per fare il male che per fare il bene. Alla luce dell'eternità tutti dovranno rendere giusta ragione della loro vita. Tutto sarà finito per gli empi i piaceri e gli svaghi, per i giusti le fatiche e le tribolazioni. Verrà l'ora in cui ciascuno dovrà ricevere, secondo i meriti, la gloria o la pena eterna. Riflessione. Quello che per tutti avverrà alla fine del mondo viene per ciascuno, in particolare alla fine della propria vita. Nell'istante della mia morte tutto sarà finito per me, il mondo e il tempo. Quando Gesù, indicandomi il Santo Vangelo e la sua passione, mi dirà, guarda, da parte mia ho fatto tutto il possibile per la tua salvezza. Cosa potrò rispondere? Ho corrisposto alle sue grazie? In che modo ho impiegato il mio tempo? Come ho osservato le leggi e consigli di Gesù? Sono stato assiduo nella preghiera e nei sacramenti? Tutto ciò dovrò rendere conto a Gesù che è stato crucifisso per me. Colloquio. Mio Dio, quando esamino me stesso rimango confuso perché vedo in me solo peccati e non penso né a detestarli né a piangerli. Gesù mio Redentore, mio Giudice, ti supplico di effondere su di me adesso e da allora la tua misericordia, quella misericordia della quale io tante volte ho abusato peccando. È vero che ho consumato il mio tempo nelle vanità e nei peccati, ma posso ancora trovare un rimedio? Lo voglio sperare, anzi so con certezza che lo troverò nel tuo amore. Non c'è peccato per quanto grave che tu non perdoni a chi ti ama. In questo amore sta tutta la nostra felicità. Perciò, Signore, fa che il poco tempo che mi resta da vivere lo impieghi ad amarti con tutte le mie forze, così in punto di morte potrò dire a gloria tua e a mia eterna gioia, ho chiuso la mia vita nel tuo amore, ora tutto comincia nella beatitudine eterna. Pratica. Farò spesso atti di amor di Dio e sacrificherò a questo amore qualche mio attaccamento particolare, in unione ai meriti della passione di Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti.